ben ritrovati telespettatori di le fonti tv con questo appuntamento speciale di new insurance sull'onda lunga della tv week dedicata al mondo delle assicurazioni e del risparmio oggi faremo un focus sul fenomeno insurtech un approfondimento che durerà un'ora e in cui vedremo alternarsi ben sette ospiti che ci daranno ciascuno proprio dal proprio punto di vista in quanto player del settore una visione una visione che è anche comune in quanto e iniziamo subito dal nostro primo ospite riguarda un'associazione un'associazione nata proprio a gennaio 2020 stiamo parlando dell'italia insurtech association ho l'immesso piacere di avere qui con noi di inaugurare questa piccola maratona simone ranucci brannimarte socio fondatore e presidente proprio dell'italia insurtech association simone grazie per essere qui con noi grazie a voi buongiorno a tutti oggi parleremo di come accelerare la digitalizzazione nel mercato assicurativo anche grazie proprio all'apporto della vostra associazione che ha come motto quello del empowering insurtech ecosystems e proprio gli attori che vedremo ospiti rappresentano appunto ciascuno un diverso punto di vista di questo ecosistema simone partiamo subito da qual è il contesto generale in cui si sta trovando il mercato assicurativo che cosa sta accadendo e allora perché far nascere questa associazione esattamente come è avvenuto in passato ad esempio all'inizio degli anni 2000 per il commercio elettronico per il business dei contenuti e negli ultimi 10 anni anche il banking canali tradizionali si stanno adeguando e trasformando alla luce di una penetrazione del digitale rapida e continua ovvero un modello distributivo e di offerta tradizionale viene meno rispetto alla crescere digitale che non è però in competizione con i modelli tradizionali ma è in grado di essere in sinergia con questo l'industria assicurativa negli ultimi cinque anni sta assistendo a una serie di innovazioni tecnologiche legate all'IoT legate alla big data legate alla blockchain legate ai canali digitali ma in realtà non è questo il tema il tema la digitalizzazione non è un tema tecnologico è un tema di usability ovvero la crescita di un nuovo consumatore che è un consumatore digitale che preferisce acquistare servizi e beni tramite canali digitali che ad oggi comincia a rappresentare in termini di percentuale un valore importante anche per l'industria assicurativa fino a ieri il consumatore digitale era marginale ad oggi Cuba circa il 30% l'intera industria assicurativa nel 2030 supererà il 55% e nel 2040 sarà il 100% quindi l'industria assicurativa deve in questo momento adeguarsi velocemente a quelle che sono delle esigenze di consumo nuove e che genereranno un cambio un cambio di paradigma un cambio di distribuzione un cambio di organizzazione ma soprattutto un cambio nell'offerta assicurativa vedete la digitalizzazione non è un tema di canale è un tema di proposition al consumatore e di offerta in ambito assicurativo significa far leva su un'offerta più trasparente più immediata più flessibile più integrata all'interno della vita del consumatore in modo tale che diciamo sia in termini di struttura che in termini di prezzo che in termini di possibilità di sottoscrizione ad esempio in mobilità possa facilitare la vita del consumatore si possano avvicinare nuove fasce di clientela al mondo assicurativo che fra l'altro ricordiamoci è un'industria sottopenetrata in italia al di là dell'rc auto che per definizione obbligatoria quindi copre la maggior parte della clientela c'è una penetrazione del 1 al 2 per cento su prodotti non auto e non vita infatti poi avremo modo anche di parlarne proprio di questo aspetto a maggior ragione è importante quello che voi proponete proprio in ottica appunto di ecosistema guardando al consumatore e ha una cultura tecnologica di innovazione di trasformazione digitale un po per questo che è nata l'associazione così diciamo che circa un anno fa i player di settore sono riuniti prendendo coscienza di questa digitalizzazione che da una parte è un must dall'altra una grandissima opportunità per il tema di penetrazione di cui parlavo poco anzi abbiamo fondato l'italia initial tech association che è l'associazione di compagnie di broker di intermediari di player tecnologico di società di consulenza di tutti coloro che vogliono supportare e velocizzare la digitalizzazione del settore assicurativo l'italia initial tech association si propone quindi di supportare la filiera tramite divulgazione tramite formazione tramite eventi tramite la creazione di standard tecnologici e di offerta e la rappresenza con le istituzioni governative e le altre associazioni ecco voi avete anche redatto un vero e proprio manifesto possiamo raccontarlo un po ai nostri telespettatori diciamo che come primo passo formale della dell'associazione abbiamo formulato condiviso e presentato al mercato il nostro manifesto linee programmatiche però quelli che sono gli obiettivi dell'associazione nel bienio 2020 2021 che si basa sostanzialmente su quattro grandi macro categorie una è l'area di mercato è quello di andare a creare educazione a mappare a misurare il mercato qui abbiamo una serie di iniziative e in atto fra cui la patrici col politecnico di milano realizzata a emettere annualmente quello che abbiamo chiamato l'insure tech innovation index ovvero la valutazione del mercato dell'insure tech in termini di investimenti di propensione alle attività e di diciamo attività del settore il primo insure tech innovation index sarà emesso a dicembre dopodiché diciamo creiamo una serie di momenti di formazione di interscambio con realtà nazionali soprattutto internazionali diciamo nel mondo che si apre al digitale la comparazione e il confronto con realtà internazionali è molto importante la seconda area tutta legata diciamo alla rappresentanza con le istituzioni quindi l'ivas in particolare perché abbiamo una serie di standard che vogliamo promuovere e diciamo legati all'utilizzo dello speed per riconoscere l'identità digitale e facilitare l'open insurance ovvero l'intescambio fra compagnie assicurative broker e tutti i soggetti industriali che fino a ieri erano lontani dal mondo assicurativo ma che in una logica digitale vogliono integrare le assicurazioni nella loro proposition parlo del telcos parlo delle utilities parlo dell'e-commerce in senso lato dopodiché ci sarà nostra cura e diciamo che in questa sessione televisiva mi sembra che il tema sarà sufficientemente dibattuto in seguito dai miei colleghi provare a definire delle linee guida che incentivino gli investimenti in insure tech sia dal punto di vista delle compagnie sia dal punto di vista del capitale pubblico e privato a favore delle start up in short tech e questo sarà l'oggetto proprio del terzo momento proprio legato agli investimenti io suggerisco anche ai nostri telespettatori di consultare anche il vostro sito prima abbiamo visto qualcosa che è particolarmente ricco di spunti materiali proprio in quell'ottica anche di education e di ecosistema che anche si racchiude attraverso un portale online per cui insomma benvenga anche poter fare un ulteriore approfondimento prima di lasciarla simone lei come vede il mercato assicurativo tra dieci anni anche sulla base di quella che vuole essere l'attività della vostra associazione noi vediamo un mercato assicurativo che sarà più penetrato quindi riuscirà a contattare maggiori segmenti di clientela tramite un'offerta che sarà l'evoluzione dell'offerta attuale un'offerta più flessibile più legata ai bisogni dei consumatori in un certo momento le associazioni da annuali diventeranno mensili giornaliera al minuto mi assicurerò per lo sport non con una assicurazione annuale ma con un'assicurazione che contestuale sul tempo che realmente a me serve che dedico allo sport la stessa cosa sarà applicabile diciamo a tutti gli altri rami danni sarà una situazione interconnesse legata al controllo dei miei beni dei miei apparecchi dei tutto quello che voglio avere sotto controllo una logica di protezione completamente integrata basata su piattaforma tecnologica quindi sarà un'assicurazione interconnessa un'assicurazione on demand una situazione in grado veramente di soddisfare ogni need che sposti il controllo dalla compagnia al consumatore esattamente come è avvenuto su altri settori sarà comunque rispetto ad altri settori non e questo già molto importante in nessun verso una cannibalizzazione della distribuzione tradizionale ma sarà un'opportunità di amplificazione di penetrazione e soprattutto di maggiore soddisfazione da parte di un consumatore e come sappiamo non è particolarmente sempre soddisfatto dei prodotti assicurativi attuali e questa è una proposizione imprescindibile poi parleremo anche di come attraverso questo ecosistema si possano comunque creare anche delle nuove opportunità lato distribuzione ma mettendo comunque il consumatore al centro io ringrazio tantissimo simone ranucci brani marte per essere stato qui con noi non mi resta a questo punto che lasciarvi per qualche minuto di pausa poi rientriamo subito con la seconda parte del nostro dibattito che riguarderà proprio l'adeguamento dell'offerta l'adeguamento tecnologico e anche la questione normativa quindi restate con noi grazie a tutti